La riqualificazione dell'involucro edilizio. Questo il titolo del workshop organizzato dall'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Treviso in collaborazione con Action Group. Svoltosi il 20 maggio nel prestigioso Best Western Premier BHR Treviso Hotel. L'evento è in fase di accreditamento per il rilascio di 8 crediti formativi per gli architetti. Il mio sarà un intervento vagamente eretico rispetto al tema specifico del seminario. Non mi interesserà parlare tanto di dettagli o di tecniche di recupero dell'involucro edilizio quanto piuttosto fare una riflessione assieme al pubblico anche su che cosa si intende oggi per sostenibilità se abbia senso parlarne. Ho sviluppato una specie di orticaria da contatto nei confronti di questo termine che viene spesso svilitto e è stato un po' depauperato negli ultimi anni soprattutto da logiche meramente commerciali, speculative. Quindi vedremo assieme dove stia andando l'architettura contemporanea o perlomeno dove stia andando per me l'architettura contemporanea e che cosa si possa intendere oggi effettivamente per sostenibilità. Grazie.